Tra maggio e giugno di quest'anno è calato il numero complessivo di ore di cassa integrazione ma il dato relativo al primo semestre 2016 consegna un monte di quasi 5 milioni 460 mila ore che fa segnare un aumento rispetto al medesimo periodo dello scorso anno. A commentare i riscontri sulla cassa integrazione e la UIL di Verona per voce del segretario generale Lucia Perina secondo la quale quando il calo delle ore di cassa integrazione è frutto di novità legislative che ne riducono tempi e modalità di utilizzo non consente questo di sostenere che sia diminuita la sofferenza del sistema produttivo. E' proprio il dato complessivo del primo semestre con il suo incremento a dimostrarlo prosegue nella sua analisi Lucia Perina. Un riscontro aggiunge tra gennaio e giugno 2016 che secondo la UIL ha elementi preoccupanti quali il numero medio di ore mensile di lavoratori in cassa integrazione che continua a mantenersi a livelli altissimi trattandosi di oltre 31 mila unità di lavoro stimate a zero ore. Se dovessimo usare la cassa integrazione come termometro della crisi ha aggiunto Lucia Perina potremmo sottolineare come il dato del mese di giugno, quello più recente, manifesti uno stato del mondo produttivo ancora preoccupante. Dopo aver analizzato la situazione complessiva dalla UIL per voce sempre del segretario generale arriva la valutazione e la parte propositiva che è quella di affrontare il particolare momento storico di forte crisi ed in assenza di un sistema di politiche attive che consenta la ricollocazione di quanti fuoriescono dal mercato del lavoro proponendo emendamenti in Parlamento al Jobax e che possono migliorare le tutele dei lavoratori soprattutto in tema di ammortizzatori sociali. La UIL conclude la serie di valutazione augurandosi che il confronto in atto con il governo e i sindacati porti a risultati concreti per i lavoratori.